Un'occasione molto importante per elevare il brand di sinestesia, per fare marketing, per acquisire nuovi led, nuovi potenziali clienti e soprattutto per anche una finalità didattica perché Primo Droidcon era nato soprattutto con un target di studenti, tantissimi Google Developer Group, tante community eccetera, non era business oriented, era più orientato a creare un ecosistema, a far conoscere una piattaforma che a quel tempo era ancora un po' più agli esordi, quindi sei anni fa e quindi ha dato la spinta per far vedere che sinestesia credeva in una piattaforma e credeva nelle community proprio in queste finalità didattiche. Poi diciamo che nel tempo si è più spostato verso quello che è il business, quindi hanno partecipato sempre più aziende portando i loro developer a vedere quali erano le ultime tecnologie sulla cresta dell'onda e farle apprendere ai loro reparti di sviluppo mobile, quindi si è un po' evoluta la cosa, si è più evoluta verso il business, si è evoluta anche sinestesia nel tempo, si è costruito un team apposta per gli eventi, quindi dagli esordi ci siamo strutturati sempre meglio e adesso abbiamo una business unit apposta, una academy in divenire per altri tipi di eventi ancora più commerciali e meno community oriented, abbiamo fatto una conferenza diciamo dell'altro lato della luna che è Swift Heroes, quindi una conferenza per sviluppatori IOS, faremo una conferenza per il multiplatform, saremo orientati sulle conferenze mobile, sullo sviluppo mobile perché quello è il core business di sinestesia, sinestesia è nata come una software agency Android e IOS e aveva le competenze per trovare speaker, per trovare il contenuto che è la parte portante proprio di una conferenza, se non c'è un contenuto di alta qualità non vengono i partecipanti, i partecipanti vengono solo per un motivo, per formarsi, quindi bisogna sempre fornire contenuto di qualità. Droidcon nasce come brand nel 2009 a Berlino, da una bella idea di Boris Jebsen che voleva diciamo così creare questo brand globale e noi siamo stati terzi a organizzarlo, una prima volta nel 2014. Essendo anche noi una software house, lo organizzavamo da sviluppatori per sviluppatori, quindi era una cosa che veniva semplice, ci veniva facile trovare i contenuti e saperli selezionare bene. Ricordo ai primi tempi che li selezionava quasi solamente Francesco Ronchi, selezionava la line up, la selezionata per Treadroidcon, poi è subentrato un comitato, quindi più persone, anche perché si è voluta sinestesia e quindi avevamo delle risorse super skillate, capaci di creare e di selezionare contenuti. Poi naturalmente anche gli speaker si proponevano volontariamente, quindi sempre più speaker, conoscendo che è una conferenza di qualità, si proponevano e quindi era sempre stato più facile avere contenuti, più difficile selezionarli, però è stato un circolo virtuoso che ha portato un po' a tutto questo. Perché ci sono molte funzioni a Droidcon, credo che questo anno la cosa più excepcional è il tema che abbiamo lanciato, che è Android for Everyone. Ci sono due proposti per il tema, uno era per l'extendere Droidcon, prima di solo di sviluppare. Droidcon era sempre solo di sviluppare Android. In realtà, l'android platform ha bisogno di tutto il team del progetto, quindi, da partecipare, sviluppare, marketing e altre cose, l'idea che abbiamo seguito con il tema è di involvare più della città di Android. Il tema Android for Everyone funziona anche in un'oggiore globale, inso modo che è per l'altro, è per i bambini, 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 per i bambini e per i bambini. E questo è un tema che abbiamo veramente fatto e che è qualcosa che ha fatto davvero di differenza per questo evento.